Dopo ci siamo fatti anche un impianto video sovegliato, di soveglianza, di vario, tramite pannelli solari, alimentato dopo con un generatore elettronico, un generatore che fa energia e la vediamo a casa via tramite il wifi, con il telefonino, su delle telecamere. Vuole evitare che di notte qualcuno venga. Eh, qualcuno.